Nata a Bari, Maddalena Maggi inizia la sua carriera lavorativa come attrice con Peter Del Monte e Marco Bellocchio, subito dopo essersi diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia, proseguendo nell'interpretazione di ruoli da protagonista con registi come Salvatore Piscicelli, Stefano Incerti, Lucio Pellegrini, Alex Infascelli e François Girard. Nel 1996 debutta nel cinema, dove svolge in prevalenza il suo lavoro d'attrice, con il film Compagna di Viaggio, regia di Peter Del Monte, a cui fanno seguito, tra gli altri, Il Principe di Homburg, 1997, regia di Marco Bellocchio, L'ospite, 1998, regia di Alessandro Colizzi, e allora Mambo, e Tandem, entrambi diretti da Lucio Pellegrini. Il Siero delle Vanita, di A. In Fascelli Mi Fido di Te. 2007, regia di Massimo Venier, Seta, di F. Girard. Nel 2006 i suoi interessi si orientano verso la regia e la musica classica. Trasferitasi a Parigi intraprende una collaborazione formativa come aiuto regista nell'opera lirica. Tornata in Italia, prosegue il suo percorso lavorativo con Gabriele Lavia come aiuto regista. Nel 2013 entra nell'associazione Emma for Peace come project manager. Negli ultimi tre anni ha curato per il Festival di Spoleto una rassegna culturale con Paolo Mieli. Nel 2016 firma la regia di Istwardu Soldat, di Igor Stravinsky. Coniaia Forte e l'orchestra di Piazza Vittorio. Prodotta dal Teatro Nazionale della Toscana. E di Volario, di cui cura sia la regia che la drammaturgia. Che debutta al 59esimo Festival di Spoleto. E di Volario, di cui cura sia la regia che la drammaturgia.